bella raga siamo tornati sul mio canale io sono genesi pro ci troviamo in un'altra un altro video dedicato a moto gp 14 ci siamo fermati con l'ultima gara che sono arrivato quinto e va bene abbiamo scalato un pochino di vet siamo saliti un pochino sopra e ora ci hanno presentato alcuni contratti vediamolo un poco come potete vedere in alto a destra ci sta la forza diciamo della squadra e io scelgo questa ragazzi la avanti tecno e firmerò con loro il contratto ragazzi a parte perché ci sta anche solo un un membro della squadra e va bene perfetto possiamo andare avanti ok raga speriamo che sarà la prossima stagione eccoci qui perfetto ragazzi ho visto che il video vi è piaciuto e molti di voi mi hanno chiesto di continuare la serie e l'hanno trovata veramente interessante quindi vediamo quello che succederà nelle prossime gare spero di essere migliorato anche nella guida quindi di essere trovato di diventare un professional all'interno delle moto di quello che è la tatticità e saper utilizzare al meglio le prestazioni della moto iniziamo subito la gara ragazzi ecco ragazzi finalmente l'attesa è finita e la nuova stagione del moto mondiale sta per cominciare moto e piloti sono quasi pronti per scendere in pista e tra pochi minuti inizierà il gran premio del Qatar classe moto 3 si batte scendiamo i motori signori forza gen forza gen questa ce la possiamo fare ragazzi dobbiamo alzimi dobbiamo farcela signori raga ho frenato troppo presto lo so lo so lo so ho fatto cagare ho fatto cagare ho fatto cagare non è una bella situazione ve la posso assicurare non è così facile quanto sembra l'acceleratore e il freno vanno a scarseggiare durante la curva non dico che sono migliorato però non l'ho toccato da un bel pomodo GP infatti sto facendo la serie solo con voi quindi non mi sono neanche allenato andiamo proprio bene mamma mia lo tallona lo tallona lo tallona inizia a superare gen forza tonucci prendi tonucci ma sempre tonucci davanti ricco balducci mamma mia guarda che coglioni come si tozzano come dei coglioni e gen li vuole superare mamma mia ragazzi sono diventato un pro mamma stavo scherzando ok stavo scherzando stavo scherzando vabbè non dico che ho barato però quasi aio versus aio aio a dove vai mamma mia mamma mia prende la curva la segui subito ragazzi è aggressivo gen gen è aggressivo non già stroller online lol 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 non esercito spontaneo oh è vaffanpuro prende subito la traiettoria e va e va gen va ragazzi mettete un bel like per questa serie che sicuramente è mostruosa rompono motori scandiamoli e andiamo avanti cerchiamo siamo nuovi per ora siamo nuovi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio quindi salire di più la classifica abbiamo iniziato ora però subito vedo che stiamo andando abbastanza bene rispondere altre volte quindi fan cura a tutti quelli ragazzi hanno detto car di gen e car di pro agagaga sei una schiappa col cazzo ragazzi io diventro un pro a livello ai massimi livelli della moto gp mamma mia e lo tagliamo subito miller ha fatto il giro record ragazzi si trova in prima posizione gen lo tallone dietro anche se mi trovo in nuova posizione è come se fossi nella seconda intanto freno subito per poter sorpassare antonelli che non ce la faccio non ce la faccio ragazzi è una sfida guerrita tra antonelli e gen antonelli e gen antonelli e gen chi sarà il pro il best eccola là ragazzi dobbiamo cercare di trovare quel gruppo che si è allontanato di qui di là e va bene controllo della moto mamma mia portentoso mamma mia ragazzi spero di non finire di nuovo quinto che l'ho fatto nelle ultime due gare ah ho perso tempo ho perso tempo porca puttana mi sta recuperando di sicuro ragazzi è difficile molto difficile mamma mia ragazzi ci stiamo avvicinando al gruppetto gli rompiamo il culo gli distruggiamo l'orifizio anale e si insacca e si insacca lo tallona niente da fare niente da fare c'è una moto molto più reattiva della mia ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se la serie vi sta piacendo e vi ricordo di nuovo di mettere un bel mi piace che aiuta soprattutto a farmi sentire a vedere se la serie vi sta piacendo se ti posto un gradimento o qualcosa ma va a far culo questo mi tagliato come un pazzo e soprattutto se vi piace il modo in cui faccio i video quindi non scordatevi di mettere il mi piace e se volete iscrivetevi al canale ragazzi ma porca troia e ragazzi abbiamo finito il giro è stata una guerra che ho perso contro Antonelli ragazzi arrivare alla nuova posizione vediamo un pochino la prossima gara cosa ci aspetta e saliamo di livello siamo arrivati al terzo livello ragazzi abbiamo sbloccato il pilota Valentino Rossi il top del top aumentano i nostri fan e spero che aumentiate anche voi i fan del mio canale lo spero davvero tanto e getto in aereo ovviamente perché abbiamo i big money tanti soldi e non si sa dove cazzo andiamo a finire nell'america poco ma sicuro almeno da quello che vedo dalla mappa secondo voi e non me lo dice perfetto non me lo dice perfetto andiamo avanti porca di quella sbutella smanettona di di una meccanica ragazzi secondo voi i meccanici donne li sanno mettere i pistoli finalmente ragazzi credo che possiamo partire ci troviamo nei USA direttamente da Austin e possiamo iniziare non ce ne fotte niente della località io la voglio vivere realmente quindi dobbiamo esserci proprio come fisicamente mentalmente in questa gara ragazzi attenzione che questa è una delle gare decisive quindi dovrò fare del mio meglio per aggiudicarmi il podio io lo spero stavolta mi concentrerò molto di più rispetto a prima perché diciamo ho fatto tanto per farlo però ora mi sta scorrendo il sangue nelle vene mi sta l'olio l'olio nelle vene il grasso dei motori e possiamo andare un caloroso saluto dagli Stati Uniti a tutti i telespettatori non darmelo caloroso il saluto è già toccato per trasmettervi la diretta della gara moto 3 mamma mia il tempo è sereno le temperature sono perfette per correre si stiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per gomme dure e chi invece sceglierà le morbide io ce l'ho duro di sicuro le gomme eccoci di nuovo ragazzi allora vabbè non ci sta ovviamente il motivo di ridirvi che noi saremo ultimi perché non ci sono le sessioni di prova quindi di classifica quindi faremo di sfugo cagare di nuovo spero di arrivare molto più in alto rispetto all'ultima gara quindi partiamo subito a quei riti ragazzi forza forza che ce la possiamo fare datemi coraggio ragazzi insieme nei commenti perché mi servono tanto perché mi spronano a fare molto di più di quello che sto facendo quindi veramente ti ringrazio davvero se hai lasciato un bel commentino qua sotto e andiamo avanti dai forza a guerliti molto più a guerliti rispetto a prima dai 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 oh cazzo scusami sai com'è scusa ok ragazzi ragazzi ho fatto già il disastro quello di sicuro starà bestemmiando tutti i santi che ci sono sui calendari ma non importa guardiamo la nostra strada e di sicuro poi vi riparleremo meglio anzi in diretta dalle telecroniche dalle radio stampa e va bene va bene va bene va bene va bene va bene ragazzi siamo in quarta posizione non dobbiamo barcollare non molliamo andiamo sempre più in avanti sempre più diritti verso la vittoria quello che sarà il nostro trofeo cercheremo di prendere il podio e baffa il culo c'è sempre uno strozzo che mi rompe il cazzo vinales te lo metto nell'anales forza dai e c'è la qua dai ma porca oh ma questo non muovo e che cazzo è frena le pasticche dei freni sconsumano sconsumano che curva di merda hanno fatto che curva di merda è una curva di merda quella non dobbiamo demoralizzarci non dobbiamo demoralizzarci è l'ultima tele ali porca puttana ho sbagliato dai 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 siamo al quarto quarta posizione ragazzi abbiamo una moto più lenta però sarà la bravura del pilota fare la differenza in questa gara ragazzi questa è una gara molto molto subita molto difficile come avete visto ragazzi ci sono moltissime moltissime curve è così a cazzo di cane quindi veramente l'abilità del pilota fa la differenza e di certo non sarò io a cascare come un coglione noi superiamo un altro ragazzi noi superiamo un altro andiamo avanti così forza 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 siamo sul podio siamo sul podio possiamo dirlo siamo sul podio ecco i primi due i primi due dai forza gen forza gen ce la puoi fare gen dai siamo tutti con te forza siete tutti con me ragazzi siete tutti con me e poi in prima posizione gen wuhuu non fatemi prendere dall'entusiasmo ragazzi siamo in prima posizione sul ventuno piloti ne abbiamo superati tutti ma proprio tutti ecco ho fatto la minchiata lo sapevo mi stanno dietro ragazzi io non devo cadere non devo barcollare devo tenere duro no 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 col cazzo che ti faccio passare col cazzo e vaffanculo sti due stronzi di merda ma guardateli ma guardateli e mi sorpasso di nuovo ragazzi è una guerra tra titani una guerra tra titani mamma mia mamma mia gen va gen va gen se ne va stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando mamma mia ragazzi c'ho c'ho proprio mamma mia ragazzi non potete capire l'emozione e ciò che sto provando adesso ragazzi per volermi mettere una bella vittoria qua su un bel video non vedo l'ora spero spero che finisca subito sta gara di merda dai dai speriamo che il prossimo lap è finita no i giri sono due su tre ah cazzo ragazzi abbiamo un altro giro qui dovremmo sudare dovremmo stare col cuore in mano quindi ragazzi non barcorriamo non teniamoli non sono nessuno non sono nessuno non sono nessuno rispetto a noi noi siamo i bro noi siamo i bro noi siamo i bro qua dentro dobbiamo farcela solo noi solo noi con le nostre forze vai vai gen vai gen vai vai avanti non cadere mai ho fatto la stronzata ok no 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 sono uscito fuori no 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 sono terzo porca troia porca troia devo riprendere no ragazzi no ragazzi ho fatto la puttanata porca troia ho fatto la puttanata ho fatto la puttanata ragazzi l'ultimo giro mi sono distratto ho fatto la stronzata delle stronzate dai 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 forza 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 voglio il primo posto voglio il primo posto dai 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 forza mamma mia ragazzi non ce la faccio più è guerrita sta gara è veramente un'ossessione è un'ossessione vai gen dai forza spingi quel motore porca troia ma porca puttanata dai arriviamo primi almeno questa già ancora al terzo posto ragazzi mettete un bel mi piace per favore dai sto arrivando al minimo in posizione sui tre dai 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 che ce la posso fare dai che ce la posso Dai che ce la posso fare Un'altra curva eh Ah no 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 Porca puttana Ah ragazzi siamo arrivati Porca troia Mi sono perso veramente non niente Porca puttana Terzo posto Ma va bene così dai E va bene ragazzi Mi sono fatto lasciare andare Ho sbloccato l'obiettivo Il cowboy E va bene potevo fare molto di più Ho fatto la stronzata di fare quell'erroraccio Quindi non sono riuscito più a riprenderli Sono arrivato almeno Al terzo posto Quindi sono salito per la prima volta sul podio Sono al punto posto in classifica E speriamo Che tutto vada bene anche nelle prossime gare L'intento di voler far di più Ci sta ragazzi ci sta tutto Quindi ragazzi saliamo subito di livello Siamo arrivati in terza posizione I fan aumentano sempre di più Meno male Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto E vediamo un po' Quello che succede Ok ragazzi Un attimo risultato ragazzi Che si è avverato Finalmente Siamo arrivati in terza posizione Ci troviamo qui Sui podi Quindi Terzo posto Con 7 minuti e 22 secondi Usando la Cuso Varna Continua con Genesi Pro Terzo posto Sempre meglio di niente ragazzi Qui è tutto da Genes Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi E condividete i miei video Ragazzi Perché veramente Un'avventura Una corsa Contro il tempo Ogni giorno che passa Quindi Vi lascio Qui Qui è tutto da Genes Bella raga